Il nome ufficiale è OPG, ospedali psichiatrici e giudiziari, ma chi ci ha messo piede almeno una volta li chiama luoghi dell'orrore. Sono sei gli OPG nel nostro paese, qui vivono coloro che dopo aver commesso un reato più o meno grave sono stati considerati non in grado di intendere e volere. Gli OPG risiedono ad Aversa, con numero di internati pari a 221, 367 a Barcellona Pozzo di Gotto, 141 a Montelupo Fiorentino, 141 a Napoli Secondigliano, 245 a Reggio Emilia, 289 a Castiglione delle Stiviere. L'orrore di questi luoghi non risiede soltanto nella faticenza degli ambienti e nello stato di abbandono di chi avrebbe bisogno di cure e non di controllo di tipo detentivo. Nel novembre scorso gli internati erano in tutto più o meno 1.400. Di questi, 450 erano dimissibili. Ma la permanenza degli internati, una pena che dovrebbe corrispondere ad una cura, viene spesso prorogata di mese in mese, di anno in anno, fino a trasformarsi in una condanna a vita. Questo a causa della difficoltà nel trovare adeguata sistemazione a queste persone, in molti casi non pericolose per la comunità. La Commissione Giustizia del Senato ha deciso all'unanimità per la chiusura di questi istituti che, tranne Castiglione delle Stiviere, dipendono dal Ministero della Giustizia e che hanno così la struttura e l'organizzazione di carceri e non di luoghi di cura. Si aspetta a giorni il parere dell'Aula per dare a 1.400 persone un reale futuro. La Commissione Giustizia ha deciso all'unanimità che gli OPG possano essere chiusi entro marzo 2013. Cosa accadrà in Aula nei prossimi giorni? Io spero che l'Aula del Senato confermi questa saggia decisione della Commissione Giustizia. Questi luoghi sono un orrore, una ferita aperta in un Paese appena, appena civile. Dobbiamo chiuderli, superarli e aprire un nuovo capitolo della psichiatria nel nostro Paese. Se il voto della Commissione Giustizia dovesse essere confermato in Aula, quale sarà il destino delle 1.400 persone ancora chiuse in questi istituti? Il 40% sono attualmente rinchiusi contro la legge. Sono internati che possono tornare a casa loro o comunque in luoghi dove essere seguiti come normali pazienti. Un altro 60% devono essere curati in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, con la presenza del personale medico e con una sicurezza garantita, ma all'esterno, non con la Polizia Penitenziaria a contatto con i pazienti, perché non è il loro ruolo e non possiamo chiederglielo. Qualcuno potrebbe dire che siccome esistono dal 1930, chiuderli e superarli in 12 mesi è un progetto troppo ambizioso. Noi della Commissione d'inchiesta abbiamo deciso che non si può attendere oltre. Ne va della dignità davvero del nostro Paese.